Cerberos non scherza, sono capace di tutto, non è una cosa facile da accettare squadronico, mette ordine di mantenere la posizione, di pensare all'accesso al prossimo punto di vista attento, c'è una cosa, forza di Cerberos, in fondo al territorio sembra che Cerberos abbia ricevuto alcuni potenti a vista forse potresti provare a prenderli ai giacchi dobbiamo distruggere quelle torrente maledizione, hanno colpito il Salarian sui credo che li abbiamo uccisi tutti al prossimo posto di blocco sono sicuro che cerverus non sia ancora finito morti non aveva ragione cerverus deve aver ricevuto una soffiata sono arrivati troppo in fretta ogni guerra ha i suoi traditori io salgo di sopra accessori in avaria shepard richiedo assistenza a 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 shepard sospetto cerberus abbia tolto energia per procedere dovrei attivare sistemi ausiliari guardiamoci intorno deve esserci un condotto energetico in zona eccellente possiamo passare aspetta altra squadra di cerberus non lasciateli avvicinare alla femmina teneteli sotto pressione a 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 andiamocene adesso ci sono io non appartengo a te vrev a 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 inizia da me accettabile dovrai restare a bordo di normandy per procedura avrei fatto comunque la femmina è mia una cura che funzioni per tutti i crogan mi sembra una bella impresa mordin puoi farcela certo simile a progetto di modifica di genofagia questa volta lavorerò contro mie alterazioni non semplici come dna esca per bloccare legami neutralizzare blocco di sistema nervoso ridondante regolare neurotrasmettitore capisco creerò cura shepard non preoccuparti brev i turian muoiono mentre noi risolviamo la faccenda non è un problema mio se vuoi parlare sarò in infermeria eva richiede altri esami eva vero nome femminile ignoto la normandia è una nave umana date le circostanze mitologia umana sembrava appropriata suggerisco di parlare con lei nuova prospettiva insolito incroga bene c'era qualcos'altro ci sarebbe un piccolo problema una nave con cui abbiamo perso i contatti che è successo preferirei discuterne in privato quando avrai finito con i problemi turian shepard dobbiamo parlare di cosa una nostra squadra è scomparsa potrò darti tutti i dettagli in privato vi raggiungerò nel centro di comando preparatevi a parlare a 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